Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video di metà settimana con un sacco di novità perché da dei gruppi cinesi, screenshot di chat, impiegati, DJI che fanno cose varie abbiamo scoperto un sacco di informazioni riguardo il Mavic 3, la Osmo Action 2 o Osmo Action Pro il futuro Phantom e il futuro Inspire, cioè praticamente leak totali tutti questi leak di cui vi parlerò oggi derivano dal gruppo cinese Hanpai Shijia che è tipo il gruppo più grande di piloti di droni in Cina, vuol dire tipo famiglia aerea il nome ed essendo loro in Cina ed essendo DJI marchio cinese è un attimo conoscere l'impiegato conoscere quello che lavora nei quartieri generali, cose varie, screenshot, messaggi, chat e abbiamo un sacco di novità ragazzi, Mavic 3, boh ma andiamo con ordine, voglio cominciare da questa screenshot, ovviamente non si sa chi ha inviato quale messaggio ma qui due persone stanno chattando e uno dice all'altro ho un amico che lavora in un DJI store, purtroppo non ha potuto portarmi prove non è riuscito a inviarmi immagini, qui stanno parlando della Osmo Pocket 2 ma è confermato che sarà più grande della versione attuale con la fotocamera sensore 1 pollice delle dimensioni della Hasselblad del Mavic 2 Pro attuale quindi qua abbiamo già il primo leak, la fotocamera della Osmo Pocket 2 immaginatevi andare in giro con un coso stabilizzato su un gimbal a tre assi ma con una bella fotocamerozza cicciona, con il sensore 1 pollice, una qualità video assurda anche in low light, molto molto bene il nostro amico nella chat continua all'interlocutore ma non è di questo che volevo parlarti oggi con lui abbiamo parlato, dice l'amico, quindi riferendosi al suo amico che lavora nel DJI store con lui abbiamo parlato del Mavic Pro 3 mi ha detto esplicitamente che quest'anno ormai per DJI è perso che l'ultimo prodotto che vedremo nel 2020 è la Osmo Pocket 2 in giugno quindi Osmo Pocket 2, sensore 1 pollice, fotocamera gigante, cose varie sembrava dovesse uscire in giugno da questa screenshot purtroppo una fonte diversa ha smentito questa qua o meglio l'ha confermata però aggiungendo altre informazioni che finiscono per smentire andiamo con ordine quest'altra fonte totalmente separata dice Osmo Pocket 2 è stato annullato era nel bel mezzo dei test finali e decine di migliaia di esemplari erano già stati prodotti erano già usciti dalla fabbrica tutto questo, cioè l'annullamento, perché il capo di DJI non è soddisfatto della qualità della fotocamera non è ancora abbastanza perfetta quindi sì, a quanto pare tutte queste specifiche sono state confermate nel senso se già ne avevano prodotte decine di migliaia è facile che le specifiche, la fotocamera, cose varie si sapessero sarebbe dovuta uscire in giugno la fotocamera non era sufficientemente perfetta quindi rimandata a data da definirsi sempre probabilmente all'interno del 2020 comunque queste due prime fonti hanno nominato il Mavic Pro 3 e allora avendo un'altra fonte molto molto eloquace questo tizio che ha scritto l'articolo sul gruppo dei piloti, amatori, cinesi, cose varie avendo un'altra fonte molto molto eloquace che gli ha prodotto schermate e schermate e schermate di chat andiamo ad approfondire cosa dice perché c'è un sacco di informazioni ci sono praticamente tutti i dettagli sul Mavic Pro 3 in particolare qui dice innanzitutto l'attuale forma da Mavic sarà utilizzata però con contaminazioni da Mavic Air 2 quindi la forma sarà più da Air 2 che non da Pro 2 è previsto che sarà molto più leggero dell'attuale 2 Pro il messaggio successivo non l'ho capito appieno comunque sta dicendo un qualcosa tipo che la forma più aerodinamica si riferisce al fatto che la forma è più simile a quella dell'Air 2 che ha il davanti concavo che non del Pro 2 che ha il cofano convesso e quindi si crea un flusso d'aria lì come l'alea di un aereo crea drag, crea spinta verso l'alto che quindi ottimizza il drone vabbè praticamente riescono a farlo più piccolo e più leggero a parità di tutto il resto continua le batterie ad alta densità di litio sono un grande punto di svolta permettono a una batteria a parità di dimensioni di accumulare molta più energia quindi ecco la notizia bomba la durata della batteria sarà 45 minuti o superiore cioè cosa vuol dire 45 minuti di batteria? ultimo messaggio di questa screen è secondo punto di svolta sarà la lente lo sviluppo è già in fase finale, già in direttura d'arrivo la lente zoom arriverà fino a 6x di zoom, non dico altro, dice e invece in realtà altro dice perché con quelle emoji di una faccina investigatore dice la fotografia aerea arriverà a livelli da investigazione aerea o qualcosa del genere perché adesso vedremo il valore di risoluzione del sensore di megapixel ma quello unito a 6x di zoom praticamente puoi stalkerare una persona dall'altra parte della città va bene, prossima screenshot ci sarà un'importante svolta anche nel metodo di trasmissione dell'immagine quindi Ocusync praticamente la maggior parte dei problemi di perdita pacchetti di cui la gente adesso si lamentava e non ho idea di chi si lamenti dei droni DJI non ho mai sentito nessuno lamentarsi dei droni DJI sono i migliori al mondo fatevi una vita se vi lamentate la maggior parte di questi problemi di cui la gente a quanto pare si lamentava saranno risolti con un ingegnoso modifica del software praticamente hanno inventato un nuovo protocollo messaggio dopo non ci ho capito una mazza ad ogni modo dice la grande grande brutta notizia è che l'anno prossimo non c'è nessuna necessità non c'è nessuna fretta di uscire nella prima metà dell'anno anzi molte di queste innovazioni tecniche hanno bisogno di tempo per essere sviluppate quindi Mavic Pro 3 seconda metà del 2021 a quanto pare screenshot successiva qui ci dà un sacco di informazioni con patate in pochissimi messaggi dicendo alcuni prodotti sono stati fatti fuori come la serie Jingling che sarebbe il Phantom e la serie V che sarebbe il Inspire e quell'altro cioè il nostro redattore dell'articolo all'interno del gruppo dei piloti gli risponde orca grave hanno proprio smesso di svilupparle e il tizio l'insider degli quartieri generali DJI dice eh sì praticamente sì quindi in tutta onestà compro assolutamente Mavic Air 2 quest'anno perché nella seconda metà dell'anno prossimo vedremo Mavic 3 invece Phantom e Inspire non si vedranno per tutto il 2020 e per tutto il 2021 il nostro redattore gli chiede a causa dell'epidemia e qui non abbiamo la risposta ma probabilmente sarà di sì perché avranno dovuto tagliare immagino costi, budget, impiegati, progettisti, cose varie per forza di cose queste screenshot che vi sto mostrando adesso erano di qualche giorno fa e ne abbiamo un'ultima di qualche giorno fa e dopo abbiamo screenshot proprio di ieri questa inizia con una data che è censurata ma è censurata male il numero censurato sembra un 28 quindi se è un 28 dice il giorno 28 aprile è ufficialmente iniziato lo sviluppo del Mavic Pro 3 ma non pensare che sarà rapido siamo solo agli inizi dice però aspettate non è che stanno iniziando adesso a progettare il drone eh infatti nel messaggio successivo spiega anche se si basa per la maggior parte su tecnologie che DJI si è sviluppata per conto loro il grosso scoglio è ovviamente la capacità di produrlo in serie e commercializzarlo quindi di creare un prodotto per consumer però non è che stanno partendo adesso a inventare la ruota si sono già sviluppati le tecnologie su come migliorare l'aerodinamicità su come fare una fotocamera leggera ma con tutte le caratteristiche che vedremo nella prossima screenshot tutte queste tecnologie sono dei piccoli blocchi che si sono sviluppati per conto loro e adesso devono sviluppare il drone mettendo insieme sta roba e rendendo il tutto commercializzabile e producibile in una fabbrica ok da queste screenshot che abbiamo appena visto trascorre qualche giorno e il tizio torna alla carica con un sacco di altre novità sul Mavic Pro 3 e queste sono proprio sugote sono ooooh e quindi sempre il nostro infiltrato nei quartieri generali DJI salta fuori un bel giorno che era ieri dicendo a proposito abbiamo novità sul Mavic 3 la fotocamera ha fatto un eccitante passo in avanti avrà due lenti intercambiabili per avere sia grand'angolo sia teleobiettivo zoom per soddisfare tutte le esigenze di campo visivo quindi non ci saranno un Mavic 3 Pro o un Mavic 3 Zoom ma ci sarà un Mavic 3 Pro su cui monti la lente normale o la lente zoom zoom che ricordiamo è 6x però è un telescopio su un sensore messaggio successivo che sarà da 4 terzi di pollice sarà un sensore micro 4 terzi come quello della GH5 per dirvi fotocamera grossa gigante cioè un sensore comunque più grande di un pollice quindi ancora più luce rispetto al già fantastico Mavic Pro 2 quindi low light incredibile ultimo messaggio di questa screen la risoluzione di una singola foto potrà raggiungere gli 80 megapixel 80 poi il tempo di volo è stato confermato per 45 minuti ha detto il capo cioè hanno detto non serve che sviluppiamo la batteria per andare oltre i 45 è già un sacco di tempo quindi non ci facciamo più questa qua è fatta la cosa diabolica dice il nostro infiltrato è il peso si stima che riusciremo a stare sotto i 600 grammi che è il livello del Mavic Air 2 cioè cosa? cosa? 600 grammi ragazzi? infatti il nostro redattore dell'articolo gli risponde Air 2 è 570 grammi con faccina a mega lol e i sensori micro 4 terzi come fanno a farcelo stare in così poco peso? e il nostro infiltrato gli risponde ma sì in realtà basta fare un sacrificio umano di un ingegnere delle ricerche e sviluppo pregando per il successo di riuscire a creare un loro del genere se ancora non si soddisfa i requisiti si compie un altro sacrificio e si fanno altre preghiere questa qua è stata la sua risposta con una faccina anche qua molto lollosa del doge il nostro redattore scrive mi sono comprato un Zemmuse X5 recentemente intendendo Zemmuse è grosso infatti dopo nel resto dell'articolo commenterà a me mi si stanca il braccio a tenere lo Zemmuse in mano quella roba col sensore micro 4 terzi e l'obiettivo come fa a starci tutto più il resto del drone in pochi etti il peso della lente è la cosa più problematica questo è veramente lo zenito della tecnologia e cose varie l'apice non lo so fa delle citazioni strane che probabilmente si riferiscono alla mitologia cinese e qua si conclude la nostra chat si conclude tutte le informazioni che abbiamo che sono veramente tantissime nel resto dell'articolo il nostro redattore si domanda se le persone con le sopracciglia grosse siano affidabili qualsiasi cosa voglia dire non so se sia una sorta di meme oppure uno scherzare sull'aspetto fisico del suo infiltrato però rischiando di farlo scoprire non lo so si domanda se l'ingegnere capo della DJI sia la reincarnazione della stella dello zenith qualsiasi cosa voglia dire comunque immagino si tipo si stia domandando se è tipo un ingegnere mitologico che riesce a far ste robe su un drone però poi aggiunge considerazioni sensate dice però effettivamente il Mavic Pro 3 è il prodotto su cui gli occhi di tutto il mondo sono puntati è il prodotto verso il quale ci sono più aspettative in assoluto quindi DJI non può rischiare di deludere in nessuna maniera il suo pubblico non può rischiare di fare niente che sia meno di eccezionale e la considerazione che fa in conclusione all'articolo è in fondo DJI una volta era conosciuta per fare magia nera di qualche tipo sui propri droni e avere tecnologie proprio fuori dal mondo potrebbe anche essere ora che tornino a farlo a riassumere questo titolo e a ritornare infiniti fasi avanti rispetto alla concorrenza e con questo si concludono tutte le informazioni che abbiamo sono veramente tantissime abbiamo l'Osmo Pocket 2 o Osmo Pocket Pro perché non hanno ancora deciso il nome? perché è più grosso quindi se lo chiamano Pro è tipo la versione migliorata dell'attuale però dopo ci si aspetta che escano di nuovo altri modelli piccoli se invece questo più grosso lo chiamano Osmo Pocket 2 chiudono la possibilità a nuovi Osmo Pocket che siano piccoli come il primo quindi boh decideranno il nome a tempo debito tanto la produzione abbiamo scoperto essere esilitata la produzione in realtà la progettazione anche il solo pensare al nuovo Inspire è stato annullato pensare al nuovo Phantom è stato annullato almeno per i prossimi anni e dei Maliki Pro 3 abbiamo scoperto un sacco di cose su cose bellissime tipo what? che sono sensore micro 4 terzi quindi dimensioni come quello di una GH5 più grande di un pollice è 1.33 pollici 80 megapixel di risoluzione che lavorando in Quad Buyer cioè che 4 pixel contribuiscono a manne uno dell'immagine finale con più informazione a quel punto come ormai fanno tutti i telefoni come fanno i droni di fascia alta 80 megapixel in Quad Buyer fanno immagini da 20 megapixel video quasi sicuramente 8K lenti intercambiabili una lente standard e una lente zoom 6x 45 minuti di batteria è assurdo è bellissimo come un traguardo del genere gli risulti talmente facile a dire boh vabbè siamo arrivati ai 45 siamo talmente avanti rispetto alla concorrenza che consideriamo la fatta sta roba e non spingiamo oltre tanto 45 è già una cifra forma aerodinamica come il Mavic Air 2 struttura in un qualche nuovo materiale che sia sufficientemente leggero da permettergli di stare sotto i 600 grammi in qualche maniera magari visto che gli obiettivi sono intercambiabili che puoi mettere uno o l'altro magari come peso del drone stanno contando senza obiettivo allora ci starebbe potremmo farcela è il fatto che sicuramente non verrà lanciato nel 2020 che probabilmente non lo vedremo neanche nella in realtà prima metà del 2021 ma che sarà nella seconda metà del 2021 purtroppo per questo video comunque è tutto pollice in su se il video ti è piaciuto ma soprattutto condividilo con gli amici con chiunque sia interessato ai prodotti DJI nei gruppi Facebook nelle chat di Whatsapp iscriviti per non perderti i prossimi tipo il video di sabato dell'aereo noi ci vediamo sabato ciao a tutti 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 ciao a tutti